sono pronti andiamo a prendere marcolone buongiorno principessa mezza giorno da buttare sacra di san michele sei pronto? si parte? si parte prima tappa? eh mon ginevro quanto sono belle le nostre montagne eh si si viva le alpi del nord ovest pausa cena in mezzo alle montagne siamo a cesana di torino tra poco saliremo su per andare in montagna è iniziato il nostro viaggio in camper me e marcolone e vamos dove andiamo? e dove dillo? spagna siamo al mont ginevro quasi al confine alla dogana vediamo un po' se ci fermano ci sta nessuno aspetta alt polis non c'è devi rallentare ma manco dentro ci sta andata siamo in francia noi ragazzi abbiamo trovato il posto per la notte qua è buio pesto provo a farvi vedere qualcosa ma non si vede assolutamente se non qualche luce ma vi assicuro che è un posto incredibile ci siano delle stelle tra l'altro vedrete domani mattina che posto è marco? bello bello non vedo l'arri domani mattina guarda quanti stelle buonanotte a domani buongiorno ma che posto è ebbè buongiorno lago di Embrun in Francia Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Un po' di chilometri oggi Ma nessuno ci corre dietro Marco come hai dormito stanotte? Deo guardaccio Cazzo mio Storto, de traverso Perché avevamo il campo in discesa Un po' di coda, non fa mai male Le bellezze della Provenza Cominciate ad avere fame Marco Come al solito Un po' di bel tempo Un po' c'è ora Un po' di mezzo e mezzo La siccità È l'automiglia La prima uscita Rodano Il bello del camper È che quando hai fame Ti fermi in un parcheggio qualsiasi Ti fa un piatto di pasta E poi riparti Ah sta asciutta Una bella cenetta al tramonto Guardate che colori Spettacolo Giornate infinite di viaggio Sono le 11.20 Siamo partiti questa mattina alle 9 Ci mancano ancora 120 km Per arrivare alla nostra meta di oggi Sei stanco? No Arriviamo anche in Portogallo Siamo partiti